Le previsioni meteo sembrano dare tra giovedì e venerdì, precipitazioni intense sul nostro territorio. Piogge che potrebbero impattare sul livello del Lago Maggiore già alto. È così che Silvia Marchionini e Alessandro Monti chiedono pubblicamente, quali siano le azioni che saranno compiute sugli sbarramenti mobili della diga della Miorina sul fiume Ticino. Al di là di possibili rischi di allagamenti, sapere come si muove il consorzio del Ticino e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.